L'etica di Spinoza, che è un testo che io ci farai l'amore con l'etica di Spinoza, è un incredibile, straordinario, mirabolante autoinganno di un uomo intelligente, fantastico e immaginifico. L'idea che il comportamento morale dell'essere umano, quindi il suo fare il bene, il perseguire il male, derivi da un rapporto geometrico con l'etica e quindi che la nostra morale possa essere misurata così come misuriamo il trapezio su un foglio oppure gli angoli di un quadrato e allo stesso modo tu puoi arrivare a dimostrare ciò che è bene e ciò che è male e attenzione, quell'autoinganno... Noi lo sappiamo che questa cosa è...